Ciao! Mi riconoscete? Forse adesso sì! Sono Antonella, la vostra eserfice di nuoto di Sport 12. Ciao bimbi! Questo video è dedicato a voi. Io sono la responsabile della scuola nuoto e quindi dedico questo video ai bambini sia della scuola nuoto che ai mini-atleti del settore propaganda. Mi mancate tantissimo bambini, ma veramente tanto, tanto, tanto! E quindi ho pensato di potervi far compagnia per una mezz'oretta con degli esercizi. Ho pensato di fissare quattro appuntamenti fissi, magari martedì, di modo che ci vediamo costantemente una volta alla settimana e in queste singole sedute faremo gli esercizi relativi a ogni singolo stile del nuoto. Quindi, oggi partiamo con il dorso. La prossima puntata faremo gli esercizi a stile libero, poi passeremo agli esercizi per lo stile della lana e l'ultima puntata per lo stile del figlio. D'accordo? Io vi direi di fare questo video con anche mamma e papà. Così fate vedere a loro quanto bravi siete o quanto bravi siete diventati quest'anno. Anche nuotando, ok? Bene, quello che serve è un tappetino con un relativo acido a manino e una bottiglietta d'acqua, così almeno li potete idratare bene. Questi esercizi li possiamo fare sia in casa che fuori in giardino. D'accordo? Benissimo. Oggi io avrò un ospite di eccezione. Una super mega ospite. di nome Chiara. Buongiorno, Chiara. Sapete chi è Chiara? Chiara è mia figlia, ok? Che volontariamente si è offerta di venire qua con noi e fare questi esercizi. Praticamente non è un po' obbligata, ma... Perfetto. Allora, di cosa tratteremo? Saranno un po' di esercizi di coordinazione, un po' di esercizi dedicati proprio allo stile e qualche esercizio un po' così, gioioso. D'accordo? Iniziamo? Iniziamo. Ok, aspetta, 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 aspetta. Facciamo che iniziamo subito, perché la mia aiutante l'ho chiamata apposta, perché lei così può fare tutti gli esercizi. Perché, come voi sapete, io sono un po' di Chiarella, quindi magari non riesco a farli tutti. Iniziamo? Iniziamo. Iniziamo con la corsetta sul posto. Ok, vai Chiara! Io inizio subito a fare la corsetta sul posto. Vai, 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 vai. Benissimo. Ecco, come sempre, quando si inizia una solita di allenamento o di esercizio, ci vuole un pochino di riscaldamento. È per quello che quindi iniziamo a correre e a fare una corsettina sul posto. Facciamo almeno due, tre minuti di corsa. Come va? Bene, bene, bene. Sei contenta di essere qua con noi? Sì! Molto contenta? Sì, sì! Ok. Bambini, vi mancate un sacco, non vedo l'ora di rivedervi, ma ce la faremo, è presto, ce la faremo. Bene, dopo questi due, tre minuti, sono già passati? Sì, dai! Ok, facciamo finta che siano passati questi due, tre minuti. Passiamo a un secondo esercizio. che è lo jumping jack. Ok, quindi apre e chiudo, apre e chiudo. Ne facciamo dieci. Vuole solo tanti che la cura? No! Alza qui indietro! Fantastico! Vai! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! E ne possiamo fare anche altri dieci. A vero, due, eh! Ok? Benissimo, benissimo, benissimo. Cosa dice? Ci siamo riscaldati un pochino? Sì! Poi loro ne possono fare dei miei 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 miei, eh! cosa potremmo essere? la giraffa la giraffa quindi su, 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 su e iniziamo a camminare ok, bimbi? dovete camminare sulla punta dei piedi fino a dove volete avanti e dietro almeno due o tre volte allungandosi il più possibile perfetto passiamo al secondo animale cosa dici? e facciamo adesso la papera qui con i talloni in su camminiamo come le paperelle io sono più bella perché ho la maglia di Natale io voglio però se le paperelle lo spesso ok, anche questo lo possiamo fare un paio di volte avanti e indietro ok oppure possiamo fare degli esercizi che invitano anche un robottino per esempio quindi facciamo un robottino e quindi muoviamo le braccia e le gambe così come un soldatino qualche bambino fai tuffo a soldatino è bellissimo ok oppure possiamo fare il bascotto e quindi camminare giù con le gambe legate in una bracciata è bello è bello faticoso fa bene tanto anche la vostra mamma e il vostro papà che mi vorranno sicuramente un sacco di bene a fare tutti questi esercizi con voi ok poi visto che noi siamo in piscina abbiamo prenduto anche un animaletto di acqua quindi il granchetto come fa il granchetto il granchetto cammina di lato ok e anche noi camminiamo di lato e poi ritorniamo indietro mamma mia questo granchetto è un po' starghetto ok stop bene però non ricordiamoci che oggi è la puntata degli esercizi per il dorso quindi dobbiamo fare anche degli esercizi per il dorso quindi coordinazione dorso facciamo l'alternata dorso vado avanti se noci quindi giriamo prima un braccio e poi l'altro il classico alternato dorso con la braccia dorso quindi un braccio scende e non sale uno scende e non sale facciamo per dieci volte parliamo da te su uno due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci ok bene passiamo sempre a esercizi di coordinazione con le braccia quindi con le braccia alte facciamo uno avanti e uno indietro bambini un braccio avanti e uno indietro ok lo ripetiamo per quattro volte quindi due tre quattro e dall'altra parte uno due tre e quattro e poi alterniamo ne facciamo uno ne facciamo uno da una parte e uno dall'altra uno da una parte e uno dall'altra e uno dall'altra wow un po' difficile eh va bene chi ci sta così si divertono tantissimo come noi e stop direi di passare l'abbracciata la bracciata l'orso eh grazie a l'orso che ci vuole perfetto quindi cosa vi dico sempre io bambini un braccio alto e un basso come se fosse un'elica di un aeroplano che gira 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 scusa 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 e non si ferma mai quindi abbiamo il braccio vicino all'orecchio l'altro è basso e si girano le braccia le braccia sono distese al nostro livello così deve la bracciata distesa cosa dobbiamo ricordarci che è quello che vi dico sempre qual è il dito che entra in acqua per primo il mignolo bravissima ve lo ricordate che è il mignolo quindi mi raccomando sempre il mignolo in acqua per primo e ne facciamo dieci uno due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci ok perfetto direi che però va bene prendiamo i nostri tappetini prego signorina chiara piace eh bambini anch'io ce l'ho una bambina un po' cresciutina voglio anche un bambino sono che è più cresciutina ok ragazzi allora passiamo a fare la seggiola qui teniamo le gambe vicine le ginocchia vicine i piedi sul pavimento ok raccogliamo le ginocchia e andiamo a fare la seggiola ad ondolo per cui andiamo in giù e torniamo su per dieci volte pronta chiara? si via uno due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci e stop bene come va? bene bene bambini voi come va? bene l'esercizio successivo è un esercizio molto importante la capriola tanti di voi la sanno già fare anche in acqua e magari adesso che siete a casa approfittatene e all'impararla a tutti la possiamo fare sul lano oppure la possiamo fare sul tappeto dove preferite voi allora chiara? appoggiamo giù la testa ok? e facciamo una bella capella in avanti fantastico ecco qui ne potete fare anche due o tre non di più perché poi magari vi c'è la testa poi le fermate e poi magari ne potete fare dopo un giro benissimo allora visto che siamo già a terra partirei con le gambe all'urso quindi ci mettiamo con i gomiti appoggiati a terra le gambe distese i piedi distesi quindi la punta dei piedi distesa bambini ok? la gamba è naturalmente distesa e saliamo con le gambe le gambe sono vicine facciamo vicine e veloci il movimento è piccolo vicino e veloce lo facciamo per chi ci vuole tanto tu puoi andare così anche per mezz'ora per cui ok uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci ok lasciamo respiriamo un secondino il prossimo esercizio sarà quello di incrociare e vi aprire sempre con i suoi gomiti se volete bambini potete farlo anche se vai in attia non è un problema ok quindi stendiamo le gambe le gambe si alzano e andiamo uno apro due apro tre apro quattro e cinque e sei sette otto nove dieci uh bene adesso abbiamo il bambino l'urso aggiungiamo anche la remata quindi pensiamo e immaginiamo di fare la remata in acqua quindi con le mani spingo l'acqua la tiro spingo l'acqua la tiro come se fossimo in acqua e ci aggiungiamo le gambe all'urso bambini anche voi immaginate di essere in piscina e di fare questo esercizio nell'acqua siamo pronti? sì ok quindi gambe all'urso e remata su bene con la pancia su bene uno due quindi controllo e bene pancia spingo 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 ancora quattro ancora tre ancora due e sto uh bene ecco quello un attimino ora che abbiamo fatto questa nuotata nell'acqua siamo più in fuoco siamo più in fuoco siamo più in fuoco bene pieghiamo le gambe i piedi appoggiati nella terra cadimento e facciamo la cucchia bracciata d'urso quindi la sedute alziamo le braccia bene vicino alle orecchie e poi scendiamo giù quindi ricordatevi che vi vivo sempre vicino alle orecchie quindi le orecchie sono qua non abbiamo gli orecchioni d'alefantoni quindi su bene e giù disteso su bene e giù disteso e ne facciamo dieci quanto siamo tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci ok e poi dopo lo facciamo con la bracciata d'urso possiamo farlo così oppure con le gambe d'urso magari ne facciamo cinque così e cinque nell'altro bene quindi un braccio alto uno basso e andiamo via uno due tre quattro cinque e poi iniziamo a muovere le gambe d'urso e continuiamo uno due tre quattro e cinque fantastico ok poi ci sono piccoli tre esercizietti che potete fare però o nella vasca d'abagno o nel lavandino perché qui adesso non si può fare allora il primo è la fontanella sai che cos'è la fontanella? si cos'è? si spruzza l'acqua ecco tanti bimbi lo fanno già voi siete abituati a spruzzare l'acqua e a schizzare l'acqua tra di voi è bellissimo fatelo tranquillamente che aiuta l'esercizio o comunque aiuta anche la respirazione un altro esercizio molto importante per voi e anche per noi è quello di immergere il viso in acqua allora vediamo questi occhialini sono molto importanti per chi nuota però bisogna anche saper nuotare senza gli occhialini quindi soprattutto voi bambini vi state imparando a nuotare bene adesso dovete anche fare dei pezzettini di nuoto senza occhialini perché noi dobbiamo sapere vedere in acqua d'accordo? quindi questo esercizio lo facciamo senza occhialini nella vasca da bagno ispiriamo con la bocca quindi prendo l'aria con la bocca e poi in acqua vado a ispirare quindi sotto con la bocca e il naso sotto con gli occhi aperti fantastico quindi questo esercizio di ispirazione con la bocca aperta di ispirazione bocca naso soffia sotto con gli occhi aperti lo facciamo per dieci volte molto importante questo esercizio fatelo piano ma fatelo bene l'ultimo esercizio un bel giochettino una bella pallina da ping pong o una paperella o un oggettino che avete galleggiante lo mettete nella vasca da bagno e soffiate forte e forte da una parte e poi soffiate forte e forte da l'altra con questa pallina si deve muovere noi abbiamo una canetta che si chiama Banti che vuole partecipare a questo video ma lo faremo in un altro momento perché lei impacanti esercizio con noi ma oggi non si può ok questo è l'ultimo esercizio che io invito quindi vi ricordo e vi aspetto martedì prossimo che faremo la seconda puntata facendo degli esercizi a Sirino tutti i nostri sì e loro aspettano andate eh i nostri in recessione ce li abbiamo sempre mi avvicino a lei perché mi ha figli anche se in questo momento non ci si potrebbe avvicinare tanto ma fa niente e vi salutiamo ti salutiamo forte forte ciao amici vi vediamo bene